Bella a tutti ragazzi e abitrati, qui sono nuovissimi, siamo qua tra lì su Fortnite perché ieri, con la patch appunto di ieri, di ieri, che era martedì, oggi è mercoledì, non so quando sarete vedendo questo video, probabilmente al mattino, oggi vi dico già che usciranno altri video, probabilmente uno o altri due, non lo so, uno, un altro sicuro. Oggi siamo qua per vedere, come avete detto dal titolo, come sbloccare tutti i stili aggiuntivi perché con la patch di ieri appunto hanno implementato tutti i nuovi ricompense, allora vi spiego un attimo come funziona. Voi dovete avere il pass battaglio ovviamente, completarlo, appena lo completerete potete iniziare a sbloccare tipo Sunny Topo da spiaggia, Sloan così, Joya Renaria, poi lui con la maschera, Sloan così, e poi vabbè Zig, Mei Cialocente e anche Rick Tossico. Appena sbloccherete tutte queste due pagine, potrete iniziare a sbloccare effettivamente i stili che stiamo andando a cercare perché non stiamo parlando di Zig, Mei Cialocente, non stiamo parlando di Rick Tossico, ma stiamo parlando proprio sempre magari di Rick e di Zig, di Zig, Zig, scusatemi, ma in un'altra versione, proprio queste qua, eccole qui. Allora, iniziamo prima da quell'argento, sono bellissime, l'ordine lo decidete voi, almeno che Rick non avrà il lucchetto, però credo che tutti, cioè potete cercare prima Sunny o prima Sloan o prima Rick. Allora, ovviamente quando le andremo a sbloccare usciranno i video, ovviamente. Gujimon argento, aspettate che andiamo a vederlo per bene, eccolo qua, non mi fa impazzire proprio la skin Gujimon, sinceramente, quindi lo lascerei perdere. Sunny argento è bella, ma è bella, molto bella, Zig, bello sto viola così. Allora, gli stili su Zig sono belli, ma ovviamente lui è troppo brutta come skin, è troppo grossa. Sloan invece è bella, ovviamente avrà i capelli così o quelli con giganti, con gli occhiali, in base allo stile che li metterete voi. E poi il Rick argento, classico, niente di che, mi piacciono sti tipo, hanno degli, tipo, non lo so, strano, però è fighissimo. Mi piace quindi tra quello e l'argento, fatemi sapere voi qual è che prenderete per prima, quando ci arriverete ovviamente. Anche se uno di voi so già che le potrebbe già avere, probabilmente, al livello 127, se stai guardando questo video sai, cioè probabilmente sai che sto parlando di te. Comunque, non ti dirò il nome però, cioè non dirò il tuo nome. Tra queste, le più belle, secondo me, sono Rick, Sloan e Sunny. Sono le tre più belle, anche perché queste due, Gugimon non mi piace e Zig è troppo grossa. Passiamo a quelle oro, abbiamo Gugimon dorato, ovviamente Gugimon ha anche lo stile oro, cioè oro, scusatemi, ha lo stile con la maschera, quindi sarebbe d'oro. È carino, ma non mi piace la skin Gugimon, quindi la tolgo, Zig dorato è bella, ma è troppo grossa. Da Sloan, Sloan stavolta non mi fa impazzire, quelle oro non mi sono mai piaciute tanto. Dopo la season di Midan non mi sono più piaciute, questo non è oro, questo è catrame, questo è rame, non è oro, no, non mi piace. Sinceramente nessuna di quelle oro mi piace, probabilmente. Non mi piace, nessuna di queste mi piace. Forse, forse Sunny, forse, non lo so. Passiamo a quelle prismatico, che io le ho sempre chiamate cromatiche, non so perché, però mi viene da chiamarle così. Gugimon, questa è però, dai, è figa ma lui non mi piace, ve le ripeto. Non mi piace su di lui questa, in realtà. Quindi, qua nessuna, forse Sunny, basta, mi piace. Qua, Gugimon non mi fa impazzire. Zig, ve l'ho già detto il mio parere. Slone, carina. Sunny, bella, bella. E vediamo Rick, oh, tre, due, uno, lasciate like, mi raccomando. Bello. Figo, 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 ci sta, mi piace. Sono praticamente gli stili che c'erano in season della Marvel, c'erano l'argento, l'oro e quello cromatico, che in realtà qua si chiama prismatico. Bello, mi piace, mi piace, mi piace. Allora, in queste cromatici mi piace sia Slone, che Sunny, che Rick. Allora, in poche parole, Zig e Gugimon mi fanno schifo in tutte le versioni. Quelle oro invece mi piace solo Sunny, perché, dai, questo non è oro. Dorato, dorato, questo a me è l'oro, vabbè, sarà dal tonico e tutto quello che volete, però... Non mi piace. Quindi, allora, dovete sbloccare prima tutte queste due... Il pass battaglia, queste due pagine, dopo Rick tossico, comunque dopo che completate questa pagina, potrete andare in sera a sbloccare o Sunny, o Gugimon, o Slone, o Rick, o Zig argento. Potete scegliere voi l'ordine. Ovviamente dovete prenderle tutte per poi passare a quelle dorate. Costano tutti 20 stelline, sono tante. Non ce l'ho ancora 20 stelline, cavolo. Eh, non sarà facilissimo, ecco. Potevano fare 15. Vabbè, comunque. Queste sono le skin. Argento, dorato e prismatico. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, iscrivetevi, guardate la campanella, lasciate le commentate quando vi vedete. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella! Grazie! Ciao!